matrimonio da sogno la figlia di milly carlucci angelica sposa il principe fabio borghese daily gossip scoop la tua informazione angelica donati figlia di milly carlucci ha detto sia il principe fabio borghese in una cerimonia da favola circondata da amici parenti e personaggi del mondo dello spettacolo la coppia si è sposata ieri a monte vettolini nei pressi di pistoglia toscana numerose le foto condivise sui social dalla sposa e dagli invitati che hanno immortalato l'evento e la splendida location la celebrazione si è svolta presso la villa medicia di monte vettolini proprietà della famiglia borghese situato nel cuore del borgo storico il palazzo elegantissimo e suggestivo è stato blindato dal pomeriggio anche la piazza del paese è stata controllata da personale addetto alla sicurezza e dalla polizia municipale per garantire un evento privato e sicuro circa 200 invitati hanno partecipato al matrimonio tra cui molte celebrità tra i presenti pierre ferdinando casini ex presidente della camera e parlamentare lucrezia lante della rovere attrice matteo marzotto imprenditore simona ventura conduttrice televisiva ugo brachetti peretti petroliere nicola porro giornalista altri volti noti specialmente del mondo televisivo legato a millicology hanno assistito alla cerimonia la wedding planner silvia slitti ha organizzato anche un elicottero per il trasferimento degli ospiti dalla chiesa al castello angelica donati figlia della conduttrice milly carlucci e del costruttore angelo donati ha sposato fabio borghese erede della dinastia di papa paolo quinto borghese già sposato con jacaranda folk caracciolo e padre di tre figli è figlio del principe alessandro borghese e fabrizia citterio lavora nel settore dell'ospitalità di lusso ed è socio di un resort la sposa ha incantato tutti con un abito bianco lungo con spalle scoperte e una coda ampia completato da un velo lungo sullo chignon milly carlucci mamma della sposa ha scelto un elegante outfit color acqua marina un taglier composto da tre pezzi con dettagli sparkling tono su tono milly carlucci ha condiviso su instagram uno scatto del matrimonio scrivendo fabio ed angelica un mondo di amore e felicità il post ha ricevuto numerosi commenti di auguri e congratulazioni da fan e amici grazie per la visione iscriviti al canale e attiva la campanella per noi è importante iscriviti al canale resta sempre aggiornati un like e attiva la campanella